La storia politica italiana è piena di rimonte dal 1996 al 2013 e quello che noi stiamo avvertendo negli ultimi giorni è un grande cambiamento nell'opinione pubblica, la gente sta scegliendo capendo che chi vince mette in mano il proprio futuro, il futuro dei propri figli e sceglie gente competente e seria, grazie. Così proprio?